Buonasera ragazzi, buonasera a tutti, da Latarai Nerd oggi voglio puntare gli occhietti sulla differenza tra Xbox Series X e Xbox Series S, qualcosa di cui stavamo parlando poc'anzi con il mio amico pilone su Whatsapp. Intanto voglio focalizzarmi sulle differenze fra le due console e a fine video spiegarvi quale ho scelto io, o comunque quale sceglierò a breve, e il perché. Allora, iniziamo con la CPU. Su Xbox Series X abbiamo un 8-core AMD Zen 2 da 3.8 GHz, mentre su Xbox Series S abbiamo la stessa identica CPU ma leggermente meno performante, a soli, fra virgolette, 3.6 GHz. Anche come GPU abbiamo lo stesso chip grafico su entrambe le console. Su Xbox Series X abbiamo un AMD RDNA 2 a 52 Qt-core a 1825 GHz, mentre la versione Xbox Series X è leggermente meno performante. Abbiamo soli 20 Qt-cores a 1565 GHz. Come potenza della GPU abbiamo su Xbox Series X 12 Teraflops, mentre su Xbox Series S è soli, sempre tra virgolette, 4 Teraflops. Come RAM l'Xbox Series X ci offre 16 GB di RAM a GDDR6, mentre l'Xbox Series S ci offre 10 GB GDDR6, ma leggermente meno performanti. Come qualità grafica siamo su Xbox Series X nativa 4K a 60 FPS, mentre l'Xbox Series S è nativa 1440p a 60 FPS con possibilità di upscaling 4K. Come capacità di archiviazione interna invece qui mi sono cascate un po' le palle. L'Xbox Series X ci offre 1 TB di spazio, mentre l'Xbox Series S ci offre soltanto 512 GB interni. Ovviamente non poteva mancare uno slot di espansioni per memorie aggiuntive proprietarie che costano più o meno quanto la console. Abbiamo un'uscita video HDMI o HDMI 2.1 e un'ampia compatibilità di giochi Xbox One e Xbox 360. La differenza sostanziale fra le due è che l'Xbox Series X è dotata di un lettore ottico, mentre l'Xbox Series S no. Quindi se avete dei giochi in supporto fisico ve li date in faccia. Se l'Xbox Series X viene venduta a 499€, per quanto riguarda l'Xbox Series S il prezzo è fissato a 299€. Ora abbiamo da fare dei rapidi ragionamenti, in modo che vi spiego perché io sono più puntato su un Xbox Series S piuttosto che un Xbox Series X. Tanto per cominciare la qualità grafica mi interessa fino a un certo punto, in quanto io non potrò comunque portarvi dei video con i giochi in 4K. Per due semplici ragioni. La prima ragione è che non tutti avete dei dispositivi che supportano il 4K per fruire appieno dei video. La seconda ragione è che io attualmente in camera non ho un monitor o una TV 4K, ma ho sul PC un monitor 1440p. Ovviamente da lasciando il discorso che se vi porto contenuti in 4K ci metto 6 anni per elaborarli con il Vegas Pro, perché purtroppo il computer è quello che è. Cioè alla fine me li manderebbe proprio a fanculo. Ma non è un discorso soltanto di contenuti di YouTube, ma è un discorso anche direttamente personale. Perché? Perché io su Xbox ho giocato o gioco a titoli come Gears e come Halo. Punto. Quelli sono i titoli che io ho sempre giocato su Xbox, quindi le esclusive Microsoft. E avendo io fatto un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, ho comunque accesso a quelle esclusive Microsoft senza costi aggiuntivi. Quindi a quel punto la mia scelta più o meno forzata è passata ad un Xbox Series S. Poiché ciò mi garantisce comunque l'accesso al Day One dei titoli in esclusiva del grande mondo Microsoft. E vada bene ragazzi, non sono né un boxato, né un sonato, né un nintendato. Sono semplicemente un videogiocatore. Microsoft facendo il suo Xbox Game Pass, il suo mondo cloud, sta facendo un ottimo lavoro. Detto questo ragazzi, appena riuscirò a mettere mani su un Xbox Series S, vi farò una recensione. Comunque porterò dei video dove la vedremo un pochetto. Per ora devo accontentarmi di annarci a pensieri. Un po' come facevamo quando leggevamo il catalogo di mail dove c'è stavano i tonnini in costume. Mi toccherà un po' a ricordi a pensieri. Detto questo io vi saluto. Ciao ragazzi, buon gioco. Grazie a tutti.